Emergenza umido, da lunedì si torna alla normalità. Conferenza stampa del presidente della provincia Domenico Gambacorta per illustrare nel dettaglio il provvedimento varato ieri e anche per rispondere alle critiche mosse dal comune di Avellino e dalle associazioni ambientaliste. L'ordinanza della durata di sei mesi prevede lo stoccaggio temporaneo di una parte dell'umido anziché a giffoni Valle Piana, come avvenuto fino ad oggi, presso l'impianto stir di Piano Dardine. 400 tonnellate a settimana chiarisce Gambacorta e non 700 come scritto nell'ordinanza, quota che va intesa solo come limite massimo. Altre 350 tonnellate verranno depositate a Flumeri. In entrambi i casi l'umido resterà poche ore per essere poi caricato sui camion in partenza per gli impianti del nord. Non si esclude che nei prossimi mesi il peso sullo stir possa essere alleggerito non appena terminati i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di Teora che potrebbe accogliere un centinaio di tonnellate a settimana. Il sistema era andato in tilt, si ricorderà, con il sequestro da parte della magistratura dell'impianto stir, poi di sequestrato e per l'assenza di privati disponibili ad accogliere l'umido. Si ritorna ad un servizio di raccolta differenziata della frazione organica più puntuale che dovrebbe darci dei risultati più importanti in termini di raggiungimento delle percentuali che sono previste dalla legge. Tre giorni a settimana nei comuni più grandi e due giorni a settimana nei comuni più piccoli secondo me è un ottimo risultato. Si ritorna alla situazione che era in funzione prima di febbraio quando, come sapete, c'è stato un sequestro da parte dell'autorità giudiziaria seguito poi da un dissequestro che ha probabilmente fatto chiarezza sulla situazione gestionale dello stir. Tre giorni a settimana soprattutto è un dato importante nel periodo estivo perché la frazione organica che produciamo a casa o nei bar o nei ristoranti o nelle menze aziendali naturalmente va immediatamente inviata negli impianti di trattamento. Immediatamente vuol dire che rimane pochissime ore all'interno dello stir di piano d'ardine o all'interno dell'impianto di flumeri. Grazie a tutti.